Questo è un arresto che arriva proprio dopo pochi giorni dal crimine ed è un modo anche per far vedere qual è la tutela che avviene ovviamente sulla provincia di Chieti. Sì, io volevo sottolineare che questa brillante operazione che è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Chieti è la testimonianza viva di che cosa è possibile fare quando c'è una grandissima collaborazione fra carabinieri e cittadini e in questo caso oltre che i cittadini anche l'amministrazione comunale. Noi ci siamo avvalsi delle testimonianze di cittadini che erano presenti sul posto e che non hanno esitato minimamente a procedere a riconoscimenti di questi rabbinatori che hanno agito a volto scoperto ma anche di quanti hanno ceduto volontariamente le immagini delle telecamere che loro avevano sia all'esterno di esercizi ma anche telecamere di cittadini privati che erano puntati per la tutela delle abitazioni private. L'esigenza di sicurezza che hanno i cittadini oramai è imprescindibile che debba essere adottata non solo dalle forze dell'ordine ma che sia anche un'esigenza primaria loro che quindi personalmente debbano provvedere anche a delle minime tutele che poi hanno un costo anche abbastanza contenuto. L'amministrazione comunale in questo ci ha sempre supportato, l'amministrazione di Francavilla e grazie a questa sinergia che è stata adottata è stato possibile arrivare a questo bellissimo risultato proprio in prossimità delle feste di Natale. Come si sono svolti i fatti? Chi è che poi aveva commesso in effetti il crimine? Il crimine è stato svolto da due foggiani, uno straniero e uno che era proprio foggiano che come al solito compiono le incursioni nel nostro territorio cercando di avvalersi del fatto che sono meno conosciuti dalle forze dell'ordine ma poi ovviamente la nostra rete è molto stretta con i comandi provinciali e ringrazio il comando provinciale di Foggia che ci ha supportato immediatamente nella prossimità dell'operazione. Quanti giorni sono passati esattamente da quando poi era avvenuto il crimine a quando lo avete risolto? Sono pochissimi giorni, sono una decina di giorni circa, sì.